Parte il campionato di promozione, parte la stagione 2018-2019, prima palla che sarà giocata dalla Pietrasanta in casacca bianca-azzurra, mentre in casacca bianco-rossa ovviamente il Jolly Montemurlo. Infatti la conclusione col sinistro, il gol del vantaggio del Pietrasanta, pronti via e dopo appena 8 minuti il Pietrasanta è in vantaggio. Un sinistro magico, non può farci niente Masi in questo caso, arriva il gol del vantaggio assegnato, il numero 10 Ambrosini col sinistro. Ricordiamo ovviamente le riprese di Roberto Bob Finelli per questo match, il tocco nel mezzo, c'è la conclusione da parte di Sanni, innescato benissimo da Zoppi, pallone che però termina fuori di poco. Genovali, poi attenzione la conclusione dalla distanza, ci ha provato Cargioli, arrivato dalla Fezzanese, che attenzione perché c'è il cambio di passo di Tosi, che va tutto in progressione, Tosi, Tosi, atterrato, non c'è nulla secondo l'arbitro, però che rischio per quanto riguarda il Jolly Montemurlo. Veramente un rischio importante questo, al minuto 29 di questo primo tempo, poi ancora una volta Cortonesi, l'1-2 che non si concretizza perché vuole mettersi in proprio per la conclusione. In questo caso Sanni è qua, ottimo, con il destro, palla alta di poco, come al solito col sinistro, quel sinistro che ha fatto male all'ottavo del primo tempo. Pallone al centro dell'area, ci ha provato Cargioli di testa. Il Pietrasanta è con questo brivido, finisce qua il primo tempo, Jolly Montemurlo 0, Pietrasanta 1, per ora decide Ambrosini, con le riprese di Roberto Bob Finelli, ci risentiamo per la ripresa, tra pochissimo. Non ce l'ha fatta Bagni a continuare, quindi entra Lunardi, è questo il cambio, quanto è folta la linea in area di rigore. Eccolo il cross sul secondo pallo, palla che arriva, direttamente in porta, eccolo, il gol dell'appareggio, Jolly Montemurlo, alla fine riesce a pareggiarla, tre sul cronometro di questa ripresa, e arriva il gol dell'1-1, calcio di punizione, pallone messo nel mezzo, entra e segna, subito, Lunardi. L'equilibrio, la fase di stallo che è tornata ad essere al massimo, e adesso si scaldano anche un po' gli animi ovviamente. C'è il cartellino giallo, per Minichino, che era già monito, secondo giallo, ed è espulso. Suspense, parte con il destro, pallone sporcato, però poteva essere un'ottima opportunità di subire il gol del 2-1. Ecco il cross nel mezzo, cross insidioso, deve aspettare il rimbalzo, Zoppi per chiudere, poi non è finita ancora la conclusione di Federico Tosi. Lampo nel buio, fa tutto da solo, questa è l'esperienza di un giocatore che ha fatto veramente tantissime categorie tra Serie G e Serie D, e anche in eccellenza. Eccolo il gol, del 2-1, ritorna in vantaggio il Pietrasanta, 1-0 il Jolly Montemurlo con il gol di Thomas Nardoni su calcio di rigore. Qui attenzione, intervento bruttissimo da parte di Tosi, rosso anche per lui, rosso anche per Tosi. Qua una follia, non abbiamo capito benissimo cosa abbia fatto. Un classe 92 e un classe 99, e intanto qua calcio di rigore per il Jolly Montemurlo, sta succedendo di tutto. Attenzione perché c'è un cartellino giallo adesso per il... contro Torre. Parte Sanni, la riesce a toccare Torre, ma non riesce a chiudere la traiettoria, 2-2 riesce a pareggiare il Jolly Montemurlo grazie al gol di Sanni. Il blocco si è un po' dispercio, eccolo il cross, deve uscire con i pugni Torre, non è finita Nanni. Poi la conclusione direttamente in porta, da parte di Brunetti. Tutta la stagione, anche quest'anno, come da diversi anni a questa parte, sulle frequenze, sulle reti di TV Prato. Attenzione perché il Jolly Montemurlo ha l'ultima opportunità, ancora una volta, il 2x2 con l'occasione per il Pietrasanta. Saltato Masi, anzi no, che riesce a chiudere. Poi il cross nel mezzo, ancora Masi. Ci mette una pezza in calcio d'angolo. Calcio d'angolo però per il Pietrasanta, che vuole una soluzione corta, vuole chiudere in avanti. Questo match finisce qui, Jolly Montemurlo, 2x2. Pietrasanta per due volte in vantaggio. Jolly Montemurlo che la pareggia per due volte. Poi il Pietrasanta resta addirittura in nove uomini e si accontenta di un pareggio tutto sommato prezioso.